segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te contro l'europa per lei è capace o no se la ricorda la metafora letteraria detta la pistola di cekov diceva anton cekov che se nel primo atto di un dramma o nelle prime pagine di uno romanzo compare una pistola primo dopo quella pistola sparerà se noi facciamo delle dichiarazioni che offriamo ai nostri avversari come argomento di polemica nei nostri confronti questo non va bene secondo me visto più polemiche in casa nostra sulla vicenda di Giorgia Meloni io ieri ho ricevuto due richieste non che sia importante io insieme due richieste di intervista su questo tema non a caso da due giornali della destra di questo paese quindi vorrei evitare che offrissimo ai nostri avversari interlocutori il destro per delle polemiche al nostro interno Giorgia Meloni ha vinto le elezioni ha conquistato la leadership del centrodestra o meglio della destra italiana oggi è insediata a palazzo chigi dove ha portato la fiamma ad ardere dopo 75 anni in cui questo non accadeva dal mio punto di vista è la presidente del consiglio ed è un avversario politico oggi è il nostro avversario politico questo governo nei primi cento giorni poco più del suo mandato ha mostrato più riprese la sua natura il suo vero volto migranti lasciati in balia di onde alte sei metri per dimostrare che la pacchia era finita una decina di condoni all'evasione fiscale nella prima ed unica finora approvata manovra di bilancio e soprattutto da uomo di sinistra lo dico perché lo penso la la povertà la povertà concepita di nuovo come una colpa da espiare e non come una ingiustizia da sanare io metto al centro questo tipo di giudizi so che siamo in posizioni diverse su posizioni diverse con la collega espressione della maggioranza ma credo che il compito del partito democratico del nuovo partito democratico dopo questo infinito ed estenuante congresso sarà attrezzare un'alternativa culturale di pensiero di politiche a questa destra diciamo le etichette definizioni sono sempre difficile metterle però ci aiutano facilitano la comprensione anche perché bisogna capirsi ma lei rispetto per esempio forse non è elegante chiederlo a uno dei competitor però rispetto al derby che si prospetta mettiamola così la sfida tra Bonaccini e Schlein lei è più vicina alle posizioni politiche parlo di Elie Schlein che dice noi dobbiamo essere un partito di sinistra e che vuol dire dal suo punto di vista essere un partito di sinistra oggi? io penso che il PD debba essere e sia un partito di sinistra ma non credo che Stefano Bonaccini pensi ad un partito moderato di centro o tantomeno conservatore penso che dovremmo metterci d'accordo su che cos'è la sinistra penso che da questo punto di vista la priorità è ricongiungere questa forza, questo partito alla parte più offese, più sofferente della società italiana il PD ha 15 anni, 16 anni di vita, non sono molti per un partito ma in questi 16 anni noi abbiamo perduto circa 6 milioni di voti e non ci siamo mai fermati un istante a cercare di capire chi erano quei 6 milioni di italiani che hanno avuto ad un certo punto fiducia verso di noi e poi non l'hanno avuta più e se tanto tanto vai a capire chi sono vedi che sono espressione della parte più offesa di questo paese operai, precari, disoccupati, pensionati al minimo penso che dobbiamo ripartire da lì e per quanto riguarda il congresso se ho fatto un passo in avanti facendo anche un po' di violenza alla mia natura e carattere è stato perché proprio non volevo che questo congresso si risolvesse in un derby in un gioco di squadre, di arruolamenti pensavo e penso, sono convinto che anche il voto alla nostra piattaforma in questi ultimi congressi di circolo oggi, domani e domenica possa servire a rendere più ricco questo confronto e più plurale la dimensione della direzione politica di questo partito se riusciremo a fare questo avremo dato un piccolo contributo Ricordando, ma insomma i nostri telespettatori sono molto attenti e molto informati sulla politica che oltre a Bonaccini e Eli Schlein c'è appunto Cooper e Paola De Micheli voleva... Grazie mille!